Tre giorni all'insegna delle eccellenze no gastronomiche, della musica, del ballo e tanta allegria. Ritorna ripalta di Cartoceto dal 9 al 12 agosto l'immancabile appuntamento dell'estate con il Borgo in festa. Giunto alla sua nonna edizione si conferma anche quest'anno come da tradizione l'evento clou del territorio. Ad animare le quattro serate la musica nel quale si alterneranno varie orchestre ormai consolidate nell'entroterra marchigiano. Soddisfatto il nuovo direttivo che preannuncia per l'occasione una manifestazione ricca di tante iniziative in programma. La serata del giovedì è incentrata al momento culturale di Ripalta quindi con l'aiuto degli amici della Via della Seta realizzeremo un documentario sulla storia di Ripalta dai ricordi una storia. Il venerdì è il venerdì giovane di Ripalta e quindi partiremo con due scuole di ballo, una di breakdance e una di hip hop, entrambe locali, una di Lucrezia e l'altra di Fano. A seguire avremo una live band di The Pertikars di Villa Grande di Montbaroccio. Successivamente fino a Nottefonda balleremo con il DJ Menko. Il sabato avremo la cena tipica servita a tavola con menù completo dal primo al caffè, per questo avremo un'esibizione della scuola di ballo My Dance che ha proprio la sede in Ripalta e successivamente il ballo con la grande orchestra di Mario Riccardi. All'interno della serata avremo il gemellaggio con i ragazzi di Montegiano, un'altra associazione amica, Montegiano c'è. La domenica invece comincieremo con l'apertura alla scuola di ballo di Dream Dance e successivamente con l'orchestra di Simona Quaranta fino a Nottefonda. All'interno della serata avremo anche questa volta il gemellaggio con la Copp Treponti, altra associazione amica che collabora e ci sostiene anche con strutture, tensostrutture e quant'altro.